Pietro Ubaldi la grande sintesi ho accennato a questa coscienza interiore perché essa è la base della più alta forma di vostra medianità la medianità ispirativa attiva e cosciente che è appunto manifestazione della personalità umana quando essa per evoluzione raggiunge questi stati profondi di coscienza che possono chiamarsi di intuizione la vostra coscienza umana è l'organo esteriore con cui la vostra vera anima eterna e profonda viene a contatto con la realtà esteriore del mondo della materia per suo mezzo essa esperimenta tutte le vicende della vita di queste esperienze fa tesoro ne assimila il succo distillato che fa suo ne fa proprie le qualità e attitudini che poi saranno gli istinti e le idee innate dell'avvenire è così che l'essenza distillata della vita discende in profondità nell'intimo dell'essere si fissa nell'eternità in qualità in peritura e nulla nulla di tutto ciò che voi vivete lottate e soffrite va nella sua sostanza perduto voi vedete che ogni vostro atto tende con lo ripetersi a fissarsi in voi in quegli automatismi che sono le abitudini cioè un abito una veste che si sovrappone alla personalità questa discesa delle esperienze della vita si stratifica così attorno al nucleo centrale dell'io che ne risulta ingigantito in un processo di espansione continua così la realtà esteriore tanto più relativa e inconsistente quanto più esteriore sopravvive a quella caducità a cui è condannata dal continuo trasformismo che la insegue e trasmette all'eterno ciò che vale e che la sua esistenza produce è così che nulla muore nel turbine immenso di tutte le cose è così che ha valore eterno ogni atto della vostra vita chi giunge a essere cosciente anche nella coscienza latente ritrova il suo io eterno e nel vasto groviglio delle vicende umane può ritrovare il filo conduttore lungo il quale logicamente secondo una legge di giustizia e di equilibrio si svolge il proprio destino egli vive allora la sua più grande vita dell'eternità e ha conciò vinta la morte egli allora comunica liberamente anche sulla terra per un processo di sintonizzazione che implica affinità con le correnti di pensiero esistenti oltre le dimensioni di spazio e di tempo ho accennato altrove alla tecnica di questa comunicazione concettuale o medianità ispirativa vi ho tracciato così il quadro della tecnica della vostra ascensione spirituale effetto e scopo della vostra vita nelle mie parole vedrete sempre aleggiare questa grande idea dell'evoluzione ma non nel limitato concetto materialista di evoluzione di forme organiche ma nel ben più vasto concetto di evoluzione di forme spirituali di ascensione di anime questo è il principio centrale dell'universo la grande forza motrice del suo funzionamento organico l'universo infinito è pulsante di vita che riconquistando la sua coscienza ritorna a Dio e questo è il gran quadro che io vi mostrerò questa la visione che io partendo dalle vostre conoscenze scientifiche vi indicherò la mia dimostrazione ricordatelo se inizia con una disquisizione a uso degli scettici è un lampo di luce che è oggetto sul mondo è una sinfonia immensa che io canto nella lode di Dio